Meteograd. Le previsioni meteo sempre con te. Segui ora il canale e lascia un mi piace. Grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per venerdì 15 marzo 2024. Il flusso perturbato di natura zonale si manterrà decisamente attivo sui settori centro-settentrionali europei garantendo in area mediterranea la distensione lungo i paralleli di una fascia anticiclonica ad alimentazione subtropicale a garanzia di tempo nel complesso stabile. Tuttavia, su dette zone, non mancheranno infiltrazioni umide dai quadranti occidentali alla base di nebbia ed estesi addensamenti di tipo basso che non è escluso possano dar luogo a qualche isolata piovigine nelle aree più esposte. Temperature miti di stampo primaverile. Previsioni meteo in area italiana per venerdì 15 marzo 2024. Nord. Nubi sparse al mattino con formazione di banchi di nebbia sui settori padani centro-orientali. Nel corso della giornata rapido aumento delle nubi iniziando da ovest fino a cieli coperti tra Piemonte e Liguria. Su dette zone attese piovigini sparse dalla sera, più probabili sul Levante Ligure. Centro. Nuvolosità irregolare con spazio per schiarite nella prima parte della giornata, soprattutto sul comparto medio-adriatico. Altrove la nuvolosità si farà compatta e dalla serata faranno ingresso locali piovigini in area toscana settentrionale. Locali banchi di nebbia mattutini nei fondovalle. Sud e isole. Poche nubi sulla Sicilia ed in area peninsulare con ampie schiarite, mentre in Sardegna assisteremo ad un rapido aumento delle nubi, cui seguirà l'ingresso di piogge sparse sul comparto nord-occidentale dell'isola. Dalla sera nubi in aumento anche sul resto delle zone. Temperature massime nel compesso stazionarie, salvo dei leggeri cali in occasione di nuvolosità compatta. Minime in generale lieve aumento un po' su tutte le zone con valori superiori alle medie. Ventilazione debole. In rotazione e lieve rinforzo dai quadranti sud-occidentali in particolare sul comparto alto-tirrenico. Mari poco mossi con moto ondoso in aumento sul tirreno settentrionale, dove i mari risulteranno a tratti mossi in serata. Tendenza in area italiana per sabato 16 marzo 2024 e domenica 17 marzo 2024. Un modesto impulso perturbato attraversa la penisola nella giornata di sabato, portando precipitazioni sparse soprattutto al nord-est ed in area peninsulare. La fenomenologia risulterà a tratti diffusa soprattutto nel corso delle ore pomeridiane. Dalla sera le precipitazioni si sposteranno verso sud, mentre altrove si faranno strada locali schiarite. Instabilità marcata domenica al centro-sud ed a tratti sulla Sicilia con piovaschi, specie nel pomeriggio. Altrove nubi irregolari in un contesto molto umido con nebbia al nord. Temperature in lieve calo sabato, venti fino a moderati a tratti. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.